I due personaggi fatidici della saga di Karate Kid, il giovanissimo campione e il suo anziano e saggio mentore, si trovano di fronte un vecchio nemico. L'allenatore paranoico e fascistoide che nel capitolo primo aveva cercato di far perdere con mille scorrettezze il campionato al ragazzo. Ora ci riprova di nuovo a rendere la vita impossibile ai due eroi.